Velocissimi sono Naif di Poggio, Medusa de Mure, Largo, Nebleu. E' Naif di Poggio che prende il comando con Riccardo Pezzatini. Medusa de Mura cerca posto nella sua scia. Cerca di infilarsi Nebleu e poi anche l'intrepide volo. Ora Medusa de Mura se coda in seconda posizione. Primi 200 metri veloci da parte di Naif di Poggio passati in 14-2. Ora però c'è l'attacco da parte di Nebleu. Nebleu prende il comando e quindi è nuovo battistrada dopo 400 metri passati in 29-2. Quindi Nebleu davanti a Naif di Poggio, poi Medusa de Mura, l'intrepide volo. I cavalli sono sulla seconda curva. All'esterno è Naracast che si trascina in Manuel Kant. Intanto se ne vanno i 600 in 44 e mezzo, molto veloci. sempre Nebleu in vantaggio davanti a Naif di Poggio. Naracast che se la deve fare tutta di fuori, pedinata da Immanuel Kant. Poi l'intrepide volo prende la via del largo anche Loca Queen che ci trascina Navaja de Gloria. Giro in 59 e mezzo. Molto veloce il ritmo da parte di Nebleu che all'esterno Naracast, Naif di Poggio in seconda posizione alla corda. Poi anche Immanuel Kant in buona posizione tattica nella scia di Naracast. Chilometro in 1'14-9. Ora cede Naif di Poggio. Naracast può sistemarsi in seconda posizione. Cosa che avviene? Quindi Nebleu davanti a Naracast. Ora viene deciso a largo Immanuel Kant. Intanto la frazione delle scuderie percorso da Nebleu ancora in 14-9. Debleu decisamente tonico. Naracast cerca di prendere fiato dopo il primo giro scoperta. Poi Immanuel Kant sembra ormai ristetta questi tre la lotta per la vittoria. 250 metri alla conclusione. Ancora Nebleu in vantaggio su Naracast e Immanuel Kant. Retta d'arrivo. Nebleu in vantaggio. Naracast che cerca di riatrazzarsi. Poi anche Immanuel Kant. Ma Nebleu sembra ancora avere le battute migliori. Nebleu viene a dominare con Andrea Farolfi il training di Olga Lerth. Secondo posto per una comunque valida Naracast davanti a Immanuel Kant. Poi lotta per le piazze minori tra Navaia de Gloria e Medusa de Mura. Buona la vittoria di Nebleu alla quota di 7-01. E conclude la saga dei vincitori di quest'oggi all'ippodromo Arcoveggio. L'appuntamento è per domenica prossima con la giornata gentlemen. e sul segnale di quest'oggi all'abbac Essayлami. Buona sera. Puoi avere un oreza granosa recfonda. Buona sera. Buonuna sera. Buono sera.